Quello che nella rabbia ho trovato più sconvolgente decisamente è l'inatteso per me uso dell'immagine, proprio nel suo complesso e nella sua originalità, un uso dell'immagine difficilissimo. La composizione iconica, la composizione per immagini è tutta fatta attraverso il montaggio. L'immagine non è tutto, perché l'immagine è quell'oggetto, d'altra parte non è composta, quindi non è soggetto, è veramente oggetto. È una specie di ready made che consente a Pasolini, che in questo caso è uomo di cinema soltanto nel montaggio ed è osservatore di immagini e poeta nel momento in cui compone l'altra parte del film, considera come un oggetto tutto questo girato. E le immagini anche come oggetto, perfino involontario. E le guarda e dalla loro osservazione, un'osservazione consapevole come quella di uno storico dell'arte, un'osservazione che carezza l'immagine, che la analizza, che la segue in tutti i suoi dettagli e trasforma in volontario anche la casualità senza autore delle composizioni, dell'oggetto, dell'immagine, del girato, dell'operatore del cinegiornale per dire. E osservandola, osservando questa immagine oggetto, fa nascere la parola, la parola in prosa e la parola poetica. Con questa straordinaria divisione della voce di Guttuso nella prosa, che è più affermativa, e tant'è vero che ha scelto un interprete eccezionale, perché Guttuso si infervora, se la mia percezione non è stata sbagliata, si infervora sugli argomenti di quello che sta leggendo, a un certo punto altera il ritmo, accelera, esce fuori la cadenza siciliana, perché condivide assolutamente con una molla di militanza quello che sta pronunciando attraverso la prosa di Pasolini. E poi invece nella parte poetica, la parte poetica che sgorga dall'immagine e sgorga da quell'altro oggetto involontario anch'esso, che è il parlato dello speaker, sia la voce di Guttuso che la voce di Bassani sono inconfondibili rispetto alla voce neutra, metallica, con una sua connotazione ben precisa, ma è come una connotazione, tra virgolette, è come una connotazione oggettiva dello speaker, senza coscienza linguistica propria. La poesia parte, poi per di più nella pronuncia di Bassani, con un lirismo che la asseconda e la rende viva in una maniera straordinaria, però è una maniera che segue proprio la contemplazione dell'immagine. C'è un punto, soprattutto, dove secondo me, la storia dell'immagine artistica a questo punto. La rabbia è estremamente importante ed è su quello straordinario canto funebre che deriva, proprio come se fosse un'apertura lirica improvvisa, dalle immagini di Marilyn Monroe, un canto funebre sulla morte di Marilyn. L'osservazione dell'immagine Marilyn produce pietà alla poesia di Pasolini, pietà umana e gli produce questo canto funebre, questa lirica meravigliosa, che veramente carezza l'immagine di Marilyn e da immagine la riporta ad essere persona, ad essere umano. Credo che il suicidio di Marilyn fosse del 1962. Non bisogna dimenticare che il suicidio di Marilyn ha provocato le Marilyn di Andy Warhol. Per Warhol la morte violenta della figura leggendaria, della diva, la trasferisce automaticamente nella condizione del mito che è assolutamente sovrapersonale, è assolutamente estraneante rispetto alla verità esistenziale della persona. Warhol realizza le prime Marilyn verso la fine del 1962, il 63, assolutamente negli stessi giorni della composizione della rabbia. Ed è un procedimento assolutamente opposto. La moltiplicazione dell'immagine distrugge, polverizza completamente la verità esistenziale, la verità umana della persona, la sigla in un'immagine stereotipa, come se il successo di pubblico, straordinario successo di pubblico, di Marilyn vivente, l'avesse trasformata in un'immagine stereotipa, neutra, in un'immagine mitica, in qualche cosa che va completamente al di fuori della sua verità umana, che la sigla in uno stereotipo di massa e una specie di uccisione della realtà della persona. La rabbia è un film che si percorre tutto chiedendo a se stessi continuamente dove sia l'autentico e dove sia il riutilizzato. C'è un momento in cui sembra che l'autentico sia comunque l'arte, se non altro perché in un contesto tutto in bianco e nero esplodono degli inserti di colore e gli inserti di colore esplodono riproducendo delle opere d'arte. Il fatto che sia colore dà un'impressione di attualità flagrante nel contesto dell'immagine appunto già fatta, appunto riutilizzata e come se quell'immagine costituisse un problema vero, attuale, sarebbe un po' come effetto l'equivalente della parola poetica e in prosa di Pasolini sovrapposta alla parola dello speaker, per esempio? Non ne sono del tutto certo, anche perché Pollock per esempio è in bianco e nero e Pontormo è in bianco e nero, sono utilizzate come un'immagine in qualche modo di riciclo se si vuole, ma sicuramente l'irruzione del colore all'interno del bianco e nero a livello di percezione ha un effetto fortissimo, talmente forte che la posizione del Pasolini critico sulla pittura contemporanea, del Pasolini critico militante, passa in subordine rispetto, mi sembra, rispetto alla forza del cambiamento cromatico e dell'irruzione del colore, come per dire sì, sicuramente è noto che Pasolini fosse assolutamente fautore della pittura figurativa proprio per la sua capacità di espressione di verità e anche perché Pasolini parte dal presupposto che su alcuni parametri di percezione non si può discutere, l'informale, l'abolizione della figura umana è qualcosa che comunque altera la naturalità della percezione, come dire una sorta di narcisismo solipsistico borghese in qualche modo. L'amore per la tradizione è percepibile soprattutto nel suo modo di leggere l'immagine anche se l'immagine non l'ha eseguita lui. Quella capacità di ricondurre Marilyn alla persona è proprio il modo di leggere l'immagine che ha il Pasolini storico dell'arte a questo punto e il Pasolini è anche allievo di Roberto Longhi ma soprattutto lettore e devoto lettore di Roberto Longhi che quasi lo segue nel momento in cui modella la poesia come conseguenza dell'esperienza visiva sul girato dei cinegiornali di Ferranti. Mi viene in mente ora l'effetto di immagini come quelle dei funerali di De Gasperi o l'effetto delle immagini della stessa immagine di potere, l'effetto visivo della fisionomia di Pio XII e l'effetto visivo, fisionomico, dello stesso identico potere, non c'è potere più identico a se stesso pur nella rivoluzione permanente delle elezioni dei papi l'uno dopo la morte dell'altro, della diversa fisionomia di Giovanni XXIII. Visto oggi la rabbia provoca anche una reazione di profondo fastidio e di profonda irritazione, perché verrebbe, è un film molto bello, ma la bellezza è una qualità di cui si diffida, tra l'altro è una bellezza mediata perché non è appunto la bellezza dell'immagine, ma la bellezza dell'immagine supportata, accompagnata dalla parola e dall'originalità della parola. Allora questo però suscita, può suscitare, a me ha suscitato come spettatore una irritazione che produce una specie di dialettica violenta, avrebbe voglia di andare lì a dirgli, ma insomma che vuoi? Cosa proponi allora? E immediatamente dopo, se questo sentimento venisse provato da qualcuno, io l'ho provato, immediatamente si prova vergogna per questa molla che ti fa dire, ma insomma che cosa vuoi? Perché la domanda, che è una domanda legittima dal punto di vista razionale e anche dal punto di vista logico, prima che razionale, però la domanda è terribilmente piccolo borghese, è paurosamente piccolo borghese ed è la domanda che ti fa capire che allora la rabbia ti sta facendo effetto perché tu osservatore sei piccolo borghese, perché la violenza del vero nemico della rabbia è l'uomo normale con la sua normalità. Grazie. 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 Grazie.